Sto preparando l'esca per il cinghiale che sta nel cortile, che non riesco a prenderlo. Quello sente il profumo della cinghialessa e sicuramente viene. Io poi mi metto dietro un albero, aspetto e quello sicuramente... La cinghialessa. Sì, penso che può bastare. È un grande, è un grande, la cinghialessa! Questo è un metodo, capito? No, non ci vedete. Amici, amici, ma soprattutto amicio, se avete problemi con i cinghiali fate come ha fatto il nostro angelo Campano, non ci mettete a cuocere, una bella cinghiale, cinghialessa, fai il cuccio, fai il cuccio... Ma no! Che succede? Leggi la niente.